ragazzi bello a tutti in questo breve video faremo un esperimento con la coca cola e sale vai ragazzi un attimo metto così ok intanto basta passare la nostra buona coca cola vabbè un bicchiere così penso che basta non pienio pieno ma neanche vuoto vuoto ok poi in diretta andremo a prendere aprire qui prendere il sale una bella zuccherata oddio funziona funziona ragazzi è vero ragazzi e mo faccio una bella pazzia guardate alla salute che schifo un like raga e seguitemi